Una coppia di ultraottantenni è stata rapinata da tre uomini, uno dei quali, un tunisino, è stato arrestato dai carabinieri di Fano. Dopo aver effettuato un prelievo Bancomat, la coppia entra in auto e subito dopo i banditi, entrati dalle porte posteriori, li hanno afferrati al collo immobilizzandoli. Con grande prontezza di riflessi, l'uomo ha iniziato a suonare il clacson dell'auto, attirando così l'attenzione dei passanti. I malviventi, vista la malparata, si sono dati alla fuga, non prima però di aver preso la borsetta della donna. L'uomo a quel punto è stato colto da malore e sempre con estrema lucidità ha chiamato il 118 che li ha trasportati in ospedale. I carabinieri acquisite le videoriprese hanno riconosciuto uno del terzetto, un tunisino di 38 anni con precedenti per spaccio. Rintracciato nel centro di Fano è stato portato in carcere. Proseguono le indagini per individuare i complici.